Due forti scosse di terremoto a distanza di due minuti l'una dall'altra hanno seminato la paura ieri notte in tutta la provincia di Messina. Gli eventi sismici principali, verificatisi poco dopo l'una, all'interno di uno sciame che ha contato un'ottantina di scosse tra mezzanotte e la mattinata di oggi, hanno avuto un'intensità di 4.1 e 4.2 della scala Richter. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Gioio Samarea, ad una profondità di 10,5 km nel triangolo compreso tra le contrade Palombaro, San Leonardo e Casale. Proprio nelle case delle contrade si sono registrati lievi danni spingendo i residenti a precipitarsi in strada. Anche a Gioio Samacentro tanta gente che aspettava i tradizionali giochi pirotecnici del Ferragosto ha anticipato il ritorno nelle proprie abitazioni. Tanta la gente che non è rientrata in casa ed ha scelto come rifugio per la notte la sua auto. Scene analoghe da Messina Attusa con gente scesa in strada per il timore di repliche. Immediatamente comunque si è attivata la protezione civile che in raccordo con le forze dell'ordine ha svolto sopralluoghi sul territorio dove comunque non si segnalano danni. A fare da DamTam le prime notizie ovviamente è il social network dove oltre alle sensazioni di paura e timori ha spopolato una singolare previsione di un fantomatico esperto inglese che da tempo annuncia terremoti senza averci mai azzeccato. Stavolta, di maniera molto parziale, l'uomo aveva anticipato che un terremoto intorno al quinto grado si sarebbe verificato tra il 16 ed il 17 agosto tra le province di Messina e Catania.